Quest'anno la Fondazione Aspi celebra i 30 anni di attività e lo sottolinea con un congresso al quale prenderanno parte relatori di caratura nazionale ed internazionale. Prima che accada è questo il titolo e l'esortazione che lancia Aspi mettendo al centro del congresso gli importanti temi della prevenzione della violenza sui minori e la promozione dei diritti dei bambini. Questo congresso rappresenta un'occasione preziosa per accrescere la sensibilità, le competenze e la consapevolezza in ambiti così delicati e sensibili. Per tutti questi motivi vi invito tutti a partecipare al congresso e a contribuire insieme a questo impegno comune così importante. Grazie a tutti.